Efficientamento informatico ed innovazione per migliorare non solo il lavoro interno degli impiegati del comune ma anche per migliorare i servizi al cittadino e fornirli in tempi sempre più rapidi inoltre anche sul fronte della trasparenza, importanti migliorie da quest'innovazione Il comune di Fano ormai da più di dieci anni era fermo con gli acquisti che riguardano le tecnologie e questo ha portato all'obsolescenza di buona parte dei macchinari Quindi abbiamo fatto una scelta importante e significativa anche dal punto di vista finanziario con l'acquisto di nuovi personal computer, di schede, potenziamento della rete LAN proprio per fare in modo che l'efficienza e l'efficacia dell'attività quotidiana ma anche del rapporto con l'utenza possa migliorare in maniera esponenziale Questo vuol dire finanziariamente circa 213 mila di investimento per quanto riguarda gli interventi per i nuovi personal computer 118 mila euro per il potenziamento della rete e consideriamo che i mesi scorsi abbiamo investito altri 140 mila euro circa per i nuovi server Questo è un intervento che serve non solo a rinnovare ma anche a innovare perché l'investimento che abbiamo fatto attraverso il servizio informativo comunale, il SIC serve a migliorare non solo le possibilità operative del comune e dei suoi uffici ma anche a migliorare decisamente il rapporto con le cittadine e cittadini visto che molti servizi li stiamo spostando sull'online proprio per facilitare per le cittadine e i cittadini il rapporto con le istituzioni Ruolo di fondamentale importanza in questo processo lo ha il SIC, il Servizio Informatico Comunale che non fornisce solo assistenza interna ma una specifica funzione di sviluppo dell'intero sistema informatico con una precisa funzione di interconnessione tra uffici e sedi distaccate Abbiamo in questo momento, sono già nelle nostre uffici, le prime forniture di computer ne abbiamo ordinati, di questo investimento diciamo fanno parte circa 230 computer che verranno completamente sostituiti in più abbiamo fatto un investimento diciamo nell'ottica anche del risparmio e della finanza pubblica facendo un recupero anche dei computer che poi erano recuperabili diciamo che non erano così obsoleti da dover essere poi smaltiti e di questi computer con degli investimenti minimi di sostituzione del disco magnetico e della RAM li possiamo recuperare, anche qui parliamo di oltre 120-130 computer in modo tale che dipendenti dell'amministrazione comunale si trovano ad avere degli strumenti adatti a rispondere in maniera più rapida e più efficiente a quello che poi sono le loro necessità e anche nei confronti della cittadinanza che si rivolge comunque al dipendente pubblico per ottenere dei servizi